E dopo aver confuso io stesso più volte nella recensione di Mi Note 10 Lite questo smartphone con Mi 10 Lite non potevo fare altro che metterli a confronto per spiegarvi in cosa sia meglio uno e in cosa sia meglio l'altro e quindi sperare di aiutarvi nella scelta del vostro prossimo nuovo Xiaomi Mediogam. Come sapete ho da poco recensito questo Mi Note 10 Lite e in quella recensione volevo fare anche un confronto fra questi due modelli e dirvi comprate questo, comprate quell'altro. Poi però mi sono reso conto che erano due smartphone ottimi che volevo consigliarli entrambi ma che comunque avevano delle differenze e quindi ho deciso facciamo un breve video separato per spiegare un po' a tutti quali sono secondo me le differenze interessanti e rilevanti di questi due smartphone. In parte si leggono dalla scheda tecnica, qualcosa no. Parliamo intanto di dimensioni e anche di design se vogliamo. I due smartphone sono diversi dal punto di vista del design, dell'ergonomia perché ok non c'è molta fantasia ormai questi smartphone sono molto simili non capisco bene il perché l'azienda non si sia ancora decisa a usare o questo logo o questo logo non lo so, spiegatemelo voi, chissà che un giorno lo capirò quindi a volte c'è la scritta Xiaomi con questo font, a volte c'è il logo Mi, vabbè non importa. Da questo punto di vista sono entrambi in vetro dietro, il profilo invece è plastico sul Mi 10 Lite e metallico sul Mi Note 10 Lite una cosa che però voglio farvi vedere è che, guardate qua, il Mi Note 10 Lite è un po' più spesso sono 9,7 mm contro i 7,9 ma non ha il bump della fotocamera e quindi questo significa, scusate cancello tutte le notifiche significa avere uno smartphone che, vabbè ho fatto uno screenshot, niente avere uno smartphone che poggiato sul piano non traballa mentre invece questo non tanto ma un minimo, ovviamente, traballa tra le altre cose, per tanto tempo Note era la definizione di smartphone grande eppure, guardate qua, Mi 10 Lite è più grande del Mi Note 10 Lite questo poi lo vedremo anche in termini di dimensione del display è più grande ma è più leggero, questo perché il frame è in plastica 192 contro 204 grammi fra i due, devo essere sincero, il Mi Note 10 Lite trasmette una maggiore sensazione di qualità sarà anche il vetro frontale stondato, sarà il peso maggiore spesso si associa a un peso maggiore, un prodotto di maggior valore però poi questo si traduce anche in uno smartphone che in tasca pesa di più quindi fatevi i vostri conti parlando di dimensioni, ovviamente non si può ignorare il fatto che lo spessore superiore del Mi Note 10 Lite è dovuto anche a una batteria da 5.240 mAh contro la 4.160 mAh sì, gli dà un vantaggio non c'è una differenza enorme fra i due anche perché comunque sono 1.000 mAh in più che non sono pochi ma non sono neanche uno stravolgimento totale non raddoppiano ovviamente l'autonomia, questo intendevo sono due ottimi smartphone questo è uno smartphone che a più persone diciamo può permettere di arrivare a due giorni ma entrambi vi fanno concludere la giornata con tutta la... insomma riuscendo ad arrivare a fine giornata partendo con una batteria carica una cosa interessante è che questo supporta la ricarica rapid a 20W questo a 30W e magari può essere anche una bella comodità dare una botta più veloce a questa batteria per arrivare più tranquillamente diciamo alla fine magari della seconda giornata vi dicevo, sempre collegato alle dimensioni il fatto che ovviamente i display sono di dimensioni diverse abbiamo un 5... scusate un 6.57 pollici un 6.47 entrambi AMOLED entrambi Full HD Plus quello del Note come avrete sicuramente già notato vi faccio vedere anche aprendo un'applicazione bianca che lo rende più chiaro c'è... ve li faccio vedere da davanti non hanno in questo momento la stessa luminosità intanto notate anche una leggera differenza in termini di tonalità dello schermo tenete anche conto del fatto che intanto qui non c'era attivo l'antisfarfallio tenete anche conto del fatto che la videocamera ovviamente è tarata in un certo modo quindi sì, sicuramente lo schermo del Mi 10 Lite è un pochino più azzurro un pochino più verdogno non c'è una differenza così grande come sembra in questo momento nella ripresa quello che volevo mostrarvi però è il bordo che è curvo, lo vedete, sul Mi Note 10 Lite io come ho già detto nella recensione Mi Note 10 Lite mi piace, la trovo una soluzione che gli dà un aspetto premium allo smartphone però ovviamente non piace a tutti quindi se vi interessano i schermi piatti questo confronto potrebbe finire qui compratevi il Mi 10 Lite perché assolutamente non c'è storia fotocamere abbiamo quattro sensori fotografici in tutte e due tutti dello stesso tipo quindi entrambi una principale entrambi una grandangolare entrambi una bouquet entrambi una fotocamera macro la principale è qui una 64 qui una 48 la grandangolare è entrambi una 8 poi la bouquet qui e la 5 qui è da 5 qui è da 2 le macro sono entrambi da 2 ma quando si scende a 5 a 2 si parla di sensori veramente molto poco importanti in termini fotografici mi sono piaciute più le foto del Mi Note 10 Lite ma non sono secondo me un punto debole di questo Mi 10 Lite le sue fotocamere semplicemente il Mi Note 10 Lite fa ancora un pochino meglio ed è per questo che adesso vi mostro in sequenza un po' di foto scattate dai due smartphone ciao ciao arriviamo al capitolo dell'ardor intanto ve li faccio ammirare ancora un po' da davanti che sono sicuramente più interessanti entrambi hanno processori Snapdragon qui abbiamo un 765G qui un 730G la G sta per gaming in questo caso octa-core da 2.4 octa-core da 2.2 GHz il 765G qui porta anche la connettività 5G non a tutti può essere può interessare diciamolo è un pochino più a prova di futuro se vogliamo ma ricordiamoci che ancora si parla solo di reti sub-6 ancora niente millimeter wave quindi comunque siamo in un inizio di 5G bluetooth 5.1 bluetooth 5.0 e guardandole sulla parte superiore vediamo come entrambi non so se lo notate abbiano un emettitore ad infrarossi tra l'altro qui c'è il jack audio ma tranquilli perché qui il jack audio è da quest'altra parte si sono avvicinati gli NFC e si sono attivati siamo arrivati praticamente a fine recensione entrambi hanno 6 GB di RAM entrambi hanno 64 o 128 GB di memoria interna entrambi hanno la MIUI 11 con tutte le sue funzionalità software entrambi costano 369 euro nel taglio da 64 e 399 nel taglio da 128 quale comprare? allora fra i due secondo me i pro del Mi Note 10 Lite pesano un po' di più perché in questo caso sono una qualità costruttiva e un design secondo me più bello ma questo ovviamente è soggettivo quindi valutate voi cosa è oggettivo? è la batteria più grande la ricarica più rapida la fotocamera migliore mentre invece sul Mi Note sul Mi 10 Lite scusate con questi nomi impazzirò abbiamo uno smartphone un po' più leggero con un display un po' più grande piatto che a qualcuno potrebbe piacere e un processore più recente che porta in dote anche il 5G in termini di prestazione e di utilizzo quotidiano devo essere sincero certo il processore nuovo performa leggermente meglio se guardiamo i numeri ma poi nell'utilizzo quotidiano come vi dicevo non ci sono grandi differenze quindi comprate quello che vi piace di più spero di aver un po' raccontato tanto sono convinto che in questo specifico caso sì ok la batteria ok il 5G ok le fotocamere ok la ricarica rapida ma poi quello che vi convincerà fatemi sapere se indovino sarà più che altro l'estetica sarà più che altro le dimensioni o lo schermo curvo o il materiale costruttivo o il design della parte posteriore o il fatto che sia più pesante o il fatto che la fotocamera sia filo o meno secondo me quando si arriva a questo livello queste cose sono più importanti di altre per questo confronto è tutto un saluto da Emanuele Cisotti